benvenuti a un nuovo appuntamento con lupocchio.it sto registrando questo demo video in sincronia da arcos diamond plus e honor 5x sono due medie di gamma che andiamo a confrontare diciamo che arco diamond plus alla fotocamera posteriore da 16 megapixel mentre honor 5x da 13 megapixel ma vi anticipo già che i pixel non sono tutto facciamo la solita camminatina per vedere come si comporta muoviamoci un attimo andiamo contro luce però non riesco a mostrarvi lo zoom perché mi manca una mano bene direi che è tutto appuntamento al confronto che arriverà a breve ciao